Improvvisamente la nostra vicina di casa ha bussato a piedi scalzi alla nostra porta! Cosa succede? Lasciate un mi piace se dobbiamo aprire la porta! Così abbiamo aperto e l'abbiamo fatta accomodare! Quando poi ci ha spiegato che voleva che le sue scarpe diventassero arcobaleno! Non le voleva bianche! Continuava a piangere pesantemente e si stava anche schiaffeggiando i piedi! Così abbiamo riempito una bacinella con dell'acqua! Ed abbiamo preso i colori! Adesso diventeranno arcobaleno! Abbiamo spruzzato tanti colori nell'acqua! E poi abbiamo immerso le scarpe nell'acqua colorata! Abbiamo chiuso e mischiate il tutto! Iscrivetevi per vedere il risultato! Quando poi guardate le scarpe! Wow! Così le indossate e adesso ero molto felice! Aveva delle scarpe colorate! Abbiamo visto qualcuno incastrato su un albero! Non riusciva a scendere! Eravamo senza parole! Quando poi ha detto... Sono su quest'albero da tanto tempo! Ho fame! Lasciate un mi piace per far apparire del cibo! Così abbiamo lanciato delle patatine! E le ha mangiate tutte! Aveva molta fame! Quando poi... Ho sete adesso! Ho sete! Iscrivetevi per far apparire una bevanda! Abbiamo lanciato una bevanda! E l'ha bevuta tutta! Era su un albero! Voglio scendere! Voglio scendere! Non ce lo faccio più! Così abbiamo provato con una corda! Forse riuscirà a scendere ma... Niente! Le persone si stavano spaventando! Non riusciva a scendere! Così Biggie ha chiamato i pompieri! Stanno arrivando! Anto ci sono degli avvisi fuori casa nostra! Degli avvisi? Cosa? Uno zombie? C'è uno zombie? In questa zona c'è uno zombie? Esatto! Dove sarà mai? Zombie! Anto è dietro di te! Zombie allontanati! Basta! Basta!